Tennis. Nel torneo di Shanghai Fabio Fognini e Dendy Murray combattono sul cemento per più di tre ore. Alla fine la spunta l'italiano che domina il tie-break decisivo e vince col punteggio di 7-6, 2-6, 7-6. Gioco più equilibrato di quanto non dica il ranking e non poche polemiche anche verbali tra i due. Dal vettico Roger Federer invece si sbarazza del catalano Ramos Bignolas col punteggio di 6-2, 7-6, vendicando la sconfitta patita quattro anni fa. Grazie.